La ditta Forum di Marzia Angelo è business partner di Edison e a Crispiano è a disposizione dei clienti nella sede di Via Palermo 36. Espletamento richieste di allaccio luce e gas. Assistenza H24 su caldaie a gas con pagamento rateale in bolletta, anche per eventuale sostituzione di caldaia. Installazione caldaie con lo sconto immediato del 50% del credito d'imposta. Analisi bollette di altri gestori. Partiremo presto con il servizio Assistenza Casa, che garantisce appunto un'assistenza a 360 gradi su tutta la casa. Forum di Marzia Angelo. Con Edison, tanti servizi in più alla collettività.